Ciao a tutti, io sono Poli, sono tornata qui con la mia sorellina Joe. Oggi faremo un outfit dei request girls. Mi sono fatta quasi quella frate, sarebbe quella lei, però non ho ancora la gonna. E anche perché il colore non credo che sia tutto uguale. I giochi dei amicizia stanno arrivando, dobbiamo prepararci. Tieni entrambe le mediei della scuola, dell'ufficio del vicepresidente l'una, prendi nell'altra, ok. Però se cado dalla scala voglio l'assicurazione, eh. Un monete! Sei proprio Elena, prendi sempre monete te. Poli. Ah, è questo. Due, cinque, sei. State molto attenti, è qui. Due, cinque, sei, due. Due, cinque, sei, due, tre. Eh, questo era facile. È vero. Eh. Temo di non aver capito perché ce l'ha fatto sbloccare. Temo di non averlo capito neanch'io. Ma perché non ci fa andare qui? Potremmo aver fatto sbloccare noi solo per pochi secondi questo straordinario ospite. No, niente scala, peccato. Non potrò fare a causa la scuola. Se non è stata la flattra, Shai. Beh, non ci serviva ancora per molto, sì. Spero di no, perché se dovrei chiamarla mi incavolo. Sì. Chi è sta qui? Ah, sono... Bene. Sono i giochi in giardino, quelli del motocross e dell'arco, secondo te? Ah, tu non lo sai ancora. Ci avviciniamo di più al livello 8, eh. Sì, però non mi piace essere flattra, Shai. Cambio look. Mi sono piaciute avere tutte quelle gemme. Spagliato maglio, scusate. Che belle. Sì, siamo pronte Dove stiamo andando? Non lo so Dobbiamo chiederlo a lei Eh, se lei lo sa Sai il canzone? Sì, lo so che si può No, non me ne frega niente Devo ancora capire perché ci fanno Ho detto di no Sì, ce lo è Perché ci faceva andare lì Io prendo sempre a più Senti, signorina a più Fai una brutta fine Ah, la biblioteca dove stiamo andando Flattershare Oh no Ha perso qualcosa Sì, il suo arco Però è bello Sì, Applejack Tiene i cinque gemme guadagnate con sudore e lacrime Ce ne rimangono due Non ricordarlo Quindi Per Natale dobbiamo procurarci una babola di questi ragors È meglio Salve, sono Applejack, sono qui per aiutare Ma dai E sbrigati che sta passando il tempo Sì, sì No, 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 no Chissà cosa ci serve a quelle ragazze Cosa ci serve a fare È molto bello giocare Bisogna andare dalla palestra Ci sono a parte Bisogna scendere lì Trovi questi due minigiochi Io li ho trovati molto divertenti Ah, davvero? Mmh Potrei fare un video di presentazione su quelli Tu che te ne pare, Joe Sì Dobbiamo ritornare da Fluttershy Sì Ah Povera Fluttershy Che l'ha rotto l'arco Poi se ti vesti così per giocare con l'arco Che vergogna Io ho una gemma Almeno così Mmh 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 Livello 8 Di appicizia Vuol dire che possiamo avere 8 amici Mmh È quella di Applejack Sì Mmh Ah, siamo nel capitolo 4 Non mi ricordo il nome Che bello Mmh No, i giochi d'autunno Sì, capitolo 4 i giochi d'autunno Sono molto Adormentata Ti adoro Gigi Oh, coniglia verde Cos'è coniglia verde Una gemma Sì Coniglia verde Non le avevo mai visti prima E anch'io Glow Lunga vita e gloria coniglia verde Ah sì, so anch'io dove è Ecco E questo che vi voglio parlare Vabbè Non faremo un video a parte Usciamo Io li ho già provati Sti giochi Sono veramente belli Perché non dico una dimostrazione Con Petitsch Dovevo pagare 5 gemme Mi veniva meglio prima Devi guardare dove gli archi saranno Non dove sono adesso Abbiamo visto qualcosa No Oh Non ci può provare Quello della moto No, vabbè Non ci facciamo un video a parte Mi piace veramente Quel coniglio gemmoso Speriamo di non averci Tanto il colore Dai, se per la prossima notte Abbiamo ancora Eppoggio che ci veste Oh, ma sti quelli Crescono come funghi Che bello Anche giornata fortunata E il Rainbow Power Chi è sta qui? Ah Sì Facciamo quello con la moto Però No, dimmi Che abbiamo Disto Credo sarei in moda E ci chiedi più la sua moto Sì Cosa? De pulirla Sì Ci vendicheremo Vendetta Sarà il mio slogan Vendetta Diremo Dash Non so Dove dia Voleva La freccina Il video sta già durante 10 minuti Non posso arrivare più di 15 minuti Perché è una licenza di YouTube standard È davvero sporca Rainbow Power Sì Sì Ma Gioco non sa Se siamo Integenti Non mi sorprenderebbe Se Dove ci chiedi Di fare la doccia Anche a sta qua Beh Per ora è tutto Facciamo una Per la prossima volta ci faremo uguali a Applejack E per ora E concluderemo Forse Il capitolo 4 I giochi D'autunno Ciao a tutti Sono Pauline Iscrivetevi al mio canale Mettete mi piace Questo è il mio sorriso Vi salutiamo Ciao Ciao